Il treno regionale, 47, 31, di Trenord, proveniente da Pavia, è diretto a Alessandria, delle ore 6 e 20, è in arrivo al binario 1, attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Pieve Albignola, San Nazaro, Ferrera Lomellina, Lomello, Mede, Torberetti, Valenza, Valmadonna. Il treno regionale, 47, 30, di Trenord, proveniente da Alessandria, è diretto a Pavia, delle ore 6 e 38, è in arrivo al binario 1, attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Sairano Zinasco, Sairano. Il treno regionale, 10, 3, 6, 2, di Trenord, proveniente da Alessandria, è diretto a Pavia, delle ore 7 e 38, è in arrivo al binario 1, attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Sairano Zinasco, Sairano. Ferma Sairano Zinasco, Sairano, 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 Strava, Sairano. Grazie a tutti.